Si è spento alle 84 anni Giuseppe Galimberti, noto architetto e insegnante di Sondrio, città nella quale era nato il 1 febbraio 1936. Dopo il diploma conseguito a Brera si era laureato in architettura al Politecnico di Milano, Ateneo nel quale è stato impegnato per anni nella formazione di tanti giovani. Uomo controcorrente, molto legato ai temi ambientali, aveva scelto di vivere a Barboni, frazione alta di Castione Andevenno, paese che subito oggi ha manifestato il suo cordoglio con il post pubblicato sui social dal sindaco Massimiliano Franchetti. La triste notizia ha raggiunto i tanti colleghi e l'architetto che più ha dato per la formazione dei nuovi architetti, spiega Andrea Forni, presidente dell'ordine provinciale, è stato punto di riferimento per l'intera categoria. Una quarantina i professionisti valterinesi giuntano la laurea sotto la sua guida. Nel 2011 l'ordine degli architetti di Sondrio organizzò una mostra in suo onore, ripercorrendo le tappe di una carriera lunga e fuori dagli schemi. Non amava i compromessi, ricorda commosso Andrea Forni.